I Data Saturdays di Parma del 2024 Il sabato 23 novembre sono stato ai Data Saturdays organizzati dal mio amico Alessandro Alpi e dalla sua equipe di Engage Labs come ogni anno ormai da un bel po' si sono tenuti a Parma non so da quanti anni di filo ormai vengono organizzati un evento totalmente gratuito orientato alle community e sostenuto dagli sponsor quest'anno come azienda, come Limeware siamo stati sponsor per cui ho preso l'occasione e sono anche andato a partecipare gli anni scorsi non ho mai partecipato non ho neanche mai fatto delle proposte come speaker perché essendo verticali sul mondo del dato io non essendo uno specialista del dato insomma mi sembrava un pochino fuori topic però appunto quest'anno sono andato li abbiamo sponsorizzati e quindi sono andato di persona a scuriosare sulle sessioni sono arrivato insieme al mio socio Luigi un po' a mattinata iniziata siamo arrivati per le nove e mezza e abbiamo fatto un po' di... abbiamo salutato amici vecchi e nuovi e abbiamo cominciato a partecipare alle sessioni diciamo dal... dopo la pausa caffè ho partecipato alle sessioni integration test nel database con test container di Andrea Ceroni che mi è piaciuta... mi è piaciuta perché da... col mio diciamo background più orientato al... al development l'ho trovata una sessione anche un buon ripasso e anche un overview sulle tecnologie di testing applicate agli scenari dei dati quindi tramite la tecnologia test container Andrea ci ha mostrato come possiamo velocemente avviare delle istanze in questo caso si trattava di SQL Server ma è applicabile anche a Redis Cache o altri sistemi di storage o altre dipendenze che possiamo avere nella nostra architettura come possiamo con questa tecnologia test container che si basa ovviamente su Docker avviare dei container su cui eseguire i nostri test e con poche righe di codice gestire questi test container e poi liberare completamente le risorse e ripartire da ambiente pulito quindi facendo quelli che sono degli integration test effettivamente affidabili perché appunto in questo caso parlando di SQL se voglio testare con SQL non uso l'entity framework in memory provider in memory ma posso con relativa facilità anzi discreta facilità usare direttamente un SQL Server e avere quindi dei test molto validi quindi sostanzialmente mi è piaciuta è stato anche molto c'è stato molto show me the code quindi con codice aperto e una demo effettivamente funzionante è stata una sessione che ho gradito parecchio le sessioni delle 11 e 40 le ho saltate mi sono messo a fare degli esperimenti con il mio computer in un qualche tavolo non ho trovato in questa fascia oraria qualcosa che almeno dai titoli o anche dalle descrizioni potesse avere a che fare con i progetti che seguo con le tematiche che sono chiare quindi non ho commenti su diciamo queste sessioni che comunque anche qui abbiamo possiamo notare dei nomi come ogni anno di altissimo spessore gente che conosco di persona e quindi DataSat si rivela da questo punto di vista una conferma sul lato tecnico e la competenza delle persone degli speaker che vengono selezionati poi dopo il pranzo beh come non parlare del pranzo del DataSat Alessandro si affida sempre a un catering d'eccezione oltre che per quantità che ce n'è per un esercito anche per qualità con un occhio anche a chi abitudini alimentari tipo vegetariani e quindi che dire se le prossime edizioni siete incerti per gli argomenti e così via del DataSat fateci un salto per il pranzo ne vale assolutamente la pena come sempre un grande classico di tutti gli eventi allora poi nel pomeriggio io sono andato alla sessione DataMesh di Alberto Cerbis also known as DDD Domain Driven Design in the Data World sono andato perché sto seguendo personalmente delle tematiche di Domain Driven Design che va a braccetto con EventSourcing un progetto che sto seguendo e quindi avevo necessità mi faceva piacere vedere un altro punto di vista sul Domain Driven Design e vedere se quello che sto imparando aveva un senso se fosse sulla direzione giusta ho trovato era la prima volta che partecipavo a una sessione di Alberto che ho trovato molto chiaro molto competente le sue spiegazioni riassuntive chiare e quindi è una sessione che nonostante abbia a che fare con progetti di DataMesh e come quindi organizzare Data Warehouse in una maniera ispirandosi al Domain Driven Design che appunto un po' fuori dalle mie aree di competenza solite comunque ho trovato dei concetti di DDD spiegati molto bene che mi ha fatto piacere ripassare o approfondire o vedere da un punto di vista leggermente diverso so che invece Luigi è stato all'Execution Plan Where Do I Start che anche lì ha trovato ben condotta con degli approfondimenti interessanti quindi anche qui abbiamo un feedback buono sui contenuti dopodiché alla fine io sono andato alla sessione di Luca Carraro e Dario Branca su RealLifeDB DevOps in SQL Server verso Azure ed oltre sono andato per vedere se c'erano novità o il loro approccio sostanzialmente su quello che riguarda il database DevOps che di solito come anche loro hanno riportato viene lasciato in secondo piano come secondo cittadino nelle pratiche di CICD o di automazioni o di maturità in generale e sostanzialmente ho avuto una conferma di quello che sono abituato a fare e di quello con cui sì ormai da anni metto in campo per le pratiche di DevOps quindi una sessione che mi ha confermato ovviamente avere la conferma da punti di vista di altri esperti è sempre anche questo il suo valore mi ha confermato e ho avuto riscontro che alcune cose effettivamente sono delle best practice farle come le ho sempre fatte per cui bene così per il resto invece il Luigi è stato al SQL Server Deadlocks tecnica per individuarli e risolverli anche qui una sessione che ha portato delle cose interessanti perché stiamo abbiamo un cliente che ci ha chiesto delle informazioni sui deadlock e quindi ci è venuto utile fare anche questo ripasso fare qualche approfondimento che ci darà delle cose utili dopodiché abbiamo preso e siamo andati via avendo dopo la pausa caffè avendo parecchia strada per rientrare non volendo tornare troppo tardi quindi il Data Saturday di Parma è stata una giornata che ho trascorso molto volentieri sia per i contenuti per l'organizzazione e anche per il networking avere visto volti amici che non incontravo da parecchio tempo quindi il mio parere e il mio consiglio è se non siete mai stati a un Data Saturday e il mondo del dato in un modo o nell'altro vi interessa o perché magari come ho fatto io quest'anno sono andato a scuriosare uscire un po' dalla zona di comfort è un evento che assolutamente consiglio essendo stato anche al Code Motion qualche tempo fa posso assolutamente dire che ovviamente la location era di un altro stampo il Code Motion è di un'altra categoria da questo punto di vista ma in termini di contenuti e di competenza e di nozioni non c'è assolutamente nulla da invidiare a eventi più alti suonanti quindi come azienda mi ha fatto quindi molto piacere sponsorizzare questo evento e molto probabilmente saremo tra gli sponsor anche il prossimo anno vista la qualità perfetto per il mio pensieri sul Data Saturday mi fermo qui mi raccomando iscriviti al canale metti un mi piace al video per rimanere aggiornato sulle prossime uscite ciao